Buongiorno a tutti, oggi è il 14 di gennaio e come avevo detto nell'altro video, oggi è la mia tappa del Shamrock Blog Tour. Allora, avevo veramente detto che sarei dovuta uscire il 28 con la mia parte di tour, soltanto che ho fatto uno scambio con Silvia e Sissi Tube e quindi sono finita a oggi. Visto che avevo già finito il libro e visto che lei era impossibilitata a postare oggi, mi sono offerta volontaria. Che cos'è questo Shamrock Blog Tour? È un tour composto da diverse booktuber e diversi blog letterari in cui sponsorizziamo in un modo un po' particolare questo libro di questa scrittrice emergente che è Veronica Todaro. Vi ho parlato del suo libro nel video precedente che è una recensione, una video recensione di questo suo libro che è appunto questo qua e ogni tappa insomma ha una booktuber o blogger che ne parla in maniera differente, che ne parla secondo il suo punto di vista. Io vi ho dato il mio punto di vista nella video recensione, però oggi è la giornata del tag. Sì perché Veronica ha pensato di ideare un tag che potesse farvi un po' conoscere il mondo di Shamrock e magari invogliarvi anche a prendere questo libro. Ho visto che, insomma, anche Veronica me l'ha scritto, che adesso è anche acquistabile in Italia tramite un sito. Il nome del sito in questo momento mi sfugge perché ce l'ho sul telefono e il telefono mi sta filmando in questo momento e quindi non posso dirvelo così online, on air, però magari vi scrivo tutto nell'info box. Come sapete non sono bravissima anche perché io monto tutto col telefono, visto che non ho una videocamera. Monto tutto con il telefono e è difficile fare i copia e incolla anche con i link delle pagine e cose del genere. Comunque andate anche a vedere magari sulla pagina Facebook di Shamrock, lo trovate evidentemente a questo nome. e ci saranno tutte le informazioni e alla fine del tour ci sarà anche un bel giveaway. Quindi io vi prego di iscriversi anche a questo giveaway perché è un libro che fa molto molto piacere ricevere, io ve lo posso assicurare. Ed è questo qua. Comunque adesso è giusto il tempo di trovare la pagina in cui l'ho scritto, sperando di non metterci troppo. Ah no, trovata, ok. Allora, è un tag quello che ha ideato Veronica, ha dei otto domande che può un po' aiutarvi, come vi ho detto, a conoscere il mondo di Shamrock un pochino più da vicino. Quindi io comincerei con uno. Qual è stata la tua prima impressione quando hai tenuto tra le labbra, tra le mani, il libro per la prima volta? Allora, se lo vedete, questo libro è un libro abbastanza spesso e posso assicurarvi che è bello pesante. E è un libro che io, cioè, un libro di sostanza, è un libro che ha parecchie pagine, insomma, sono 518 pagine in tutto. Ha una bella copertina, mi piace molto, mi piace anche che sia stato pubblicato da una case editrice indipendente, soggetta, insomma, a una fondazione. E niente, insomma, ha avuto una molto bella, sto traducendo dal francese, un'impressione molto bella la prima volta che l'ho preso in mano. Due. Qual è il tuo preferito? Il tuo personaggio preferito è perché, scusatemi, oggi non riesco a parlare, vorrei fare il video decentemente, ma non ci riesco. E' la seconda volta che filmo, però tipo mi impappino e parlo malissimo, comunque prendetela per buona. Comunque, due. Qual è il vostro personaggio preferito e perché? Allora, il mio personaggio preferito tra tutti quelli incontrati è Aidan. Aidan è un ragazzo abbastanza complesso, però mi piace tantissimo. E' uno dei due gemelli, il gemello buono tra i due, quello che ha saputo, diciamo, ribellarsi a suo padre, Caster, in modo da poter portare, insomma, anche il suo aiuto, insomma, agli altri ragazzi per poter salvare il mondo di Shomrock. Io, a questo punto, ho anche un piccolo dubbio. Io l'ho sempre chiamato Shomrock, ma io non penso si pronunci in questo modo, mi sta venendo in mente adesso. Però fa lo stesso, insomma, prendetelo per buono, il libro è questo, scrivere con la A, ma a me viene con la O. In ogni caso, sì, scusatemi, io ve l'ho detto oggi, è la seconda volta che tento di filmare questo video. Mi viene da ridere perché non riesco a parlare come vorrei. Comunque sì, il mio preferito Aidan è perché io trovo che sia un personaggio molto, molto forte. Anche, insomma, nel suo piccolo, insomma, è riuscito a fare molte, molte cose. Tre. Quale personaggio, invece, non sopporti? Per quale motivo? Allora, non sopporto entrambe le gemelle. Le gemelle sono altre due delle protagoniste di questo romanzo. E sono due ragazze un po', non lo so, non mi piacciono, le trovo un po' vuote. Un po' lamentose e troppo dipendenti, fra virgolette, l'una dall'altra. E non mi piacciono per niente. Quattro. Ti piacerebbe trascorrere una giornata a Shamrock? Quale luogo descritto visiteresti? Allora, sinceramente, sì, mi piacerebbe. Nel caso ci sia la pace, insomma, in questo paese. Mi piacerebbe molto visitarlo e, sinceramente, mi piacerebbe vedere la radura dove tutti e sei i protagonisti sono stati addestrati per la loro missione una volta che, in effetti, hanno messo piede a Shamrock. Ecco, e perché all'interno di questa radura, a parte una sorta di campo di addestramento, un boschetto e quant'altro, c'è un albero casa. Io ho sempre desiderato avere una casa sull'albero e non l'ho mai avuta. Quindi mi piace tantissimo l'idea di questa casa sopra l'albero. Non so, mi piace da matti, quindi mi piacerebbe visitare quel posto lì in particolare. 5. In Shamrock ci sono creature leggendarie come Sirene, Fate, Gnomi e Draghi, ma anche creature e popoli inventati. Di questi ultimi, quale preferisci? Allora, la creatura inventata che io assolutamente preferisco sono i Fortunelli. Io non ne ho mai sentito parlare, quindi il sospetto sia una creazione di Veronica. E i Fortunelli sono gatti, semplicemente sono gatti che sono affidati a ogni mago e maga, insomma, giovani. E saranno una sorta di portafortuna per il resto della vita, una sorta di protezione. E quale più bell'idea di fare questo Fortunello a forma di gatto? Io non lo so come è venuto, però è bellissimo. Non è possibile, l'avrete sentito, vero? Non mi chiama nessuno tutta la giornata, nel momento stesso in cui mi metto a filmare, ecco che arriva la chiamata dalla mia banca francese, cioè va bene, ok? Comunque, per non perdere altro tempo, perché ne stiamo già perdendo un sacco, a parte io che non riesco a parlare la terza volta, anzi, la seconda volta che rifaccio il video e non mi possono telefonare così, non possono. Vabbè, comunque stavo dicendo dei Fortunelli. Comunque, andiamo avanti. Il tema che più mi ha colpito, sinceramente, è quello che non importa chi sei, non importa se sei scompletamente sano, se sei portatore di handicap, non importa da dove vieni, cosa hai fatto, ma l'importante è credere in te stesso, l'importante è avere persone di cui ti puoi fidare accanto e saper arrivare, insomma, ai propri obiettivi, raggiungere il proprio obiettivo con le proprie forze, ma riuscendo anche con altre persone a fare una sorta di fronte comune. Non lo so, è un po' confusa questa mia definizione. Però mi piace l'idea che mi hanno dato di gruppo, mi piace l'idea che mi hanno dato di coesione, mi è piaciuto un sacco il fatto che nessuno fosse lasciato indietro mai e mi piace che una delle, insomma, le caratteristiche di ogni persona siano riuscite ad uscire in qualsiasi situazione, in qualsiasi sfida e quindi non importa veramente chi sei, l'importante è andare fino in fondo, sapere chi sei, sapere il tuo valore e sapere anche lavorare in squadra, insomma, ce ne vuole nella vita, io lavoro in squadra, io lavoro in un'equipe, come si dice, in un hotel, quindi se non si fa squadra, se non si fa gruppo, è difficile andare avanti e questa cosa mi ha molto, cioè mi è saltata all'occhio, capito, insomma, è qualcosa a cui ho fatto caso. Sette, c'è una frase nel libro o un passaggio che ti hanno particolarmente colpita? Allora, sinceramente sì, non è una frase, è solo un passaggio, è un'immagine di queste quattro persone che uniscono i loro poteri per riuscire ad entrare, ad oltrepassare il cancello per Shambrock. E non lo so, mi è molto piaciuta questa immagine con i fasci di luci che si univano insieme, i ragazzi che si devono tenere per mano e quant'altro, non ne lo so, mi è molto piaciuto, ma lo scoprirete leggendo questo libro, dovete leggerlo. Andiamo avanti. 8. Se potessi portare un oggetto o un personaggio fuori dal libro, che cosa sceglieresti? Allora, io ne porterei fuori tre. 1. Vorrei prendere dalla casa del nonno di Lara, una delle protagoniste, un librone enorme, rilegato in pelle, molto vecchio, molto antico, insomma, che lei legge la sera prima di entrare a Shambrock e che racchiude in sé tutta la storia di questo paese. Quindi io vorrei proprio avere quel libro, io sono una feticista dei libri, quindi cosa avrei mai potuto tirare fuori da un libro, un altro libro. Seconda cosa, tirerei fuori un fortunello perché voglio un altro gatto e questa idea di questo animale felino, porta fortuna, mi piace da morire. E sì, qua mi manca avere un animale. E terza cosa, porterai fuori Aidan e Gwenael. Sì, no, è Aidan soprattutto, ma anche Gwenael. Però sì, Aidan mi sa di carino carino, quindi lo tirerei fuori sicuro. Comunque, questo era il tag che Veronica ha ideato per il suo libro. Io spero che vi sia piaciuto e spero si capisca qualcosa, anche se a un certo punto mi è partita una telefonata. Cioè, facciamo stare, io non ci posso credere. Ho deciso di tenere questa versione del video soltanto perché non volevo rifarla una terza volta. Quindi scusatemi, scusami vero se è uscito un po' così sconclusionato. Ma spero che abbia dato una mano a tutti voi che mi seguite a conoscere un pochino di più questo mondo meraviglioso e che magari vi abbia invogliato anche a seguire le altre tappe del tour che saranno a breve. Insomma, vi ho detto, andate a vedere sulla pagina Facebook di Shamrock e sicuramente troverete tutte le informazioni che vi servono. Sia per il giveaway, sia per l'acquisto del libro, sia per tanti retroscena, insomma, di questo libro. Quindi io per il momento vi lascio un bacio e vi saluto fino al prossimo video. Ciao! Ciao!